C'era da attenderselo, tanta curiosità, tanta attesa, subito trasformata in una lunga coda di vetture, tutte dirette al centro commerciale Le Cotoniere di Fratte. Lunghe code già da questa mattina in via Venner, nell'area di confine con Pellezzano e nel tratto da Acquamela a Colonia, estese in via De Greci per raggiungere l'ingresso del parcheggio del centro commerciale. Una situazione che, misurata al primo giorno di apertura, fa temere disagi e code, soprattutto per i prossimi giorni, in modo particolare per la prossima festività dell'Immacolata e del weekend, che si innestano anche al flusso dei visitatori per luci d'artista. Insomma, c'è da attendersi lunghe code e disagi in entrambe le direzioni, dove seppur ci sia stato un ampliamento delle carreggiate, le auto provenienti da Fratte devono raggiungere la rotatoria di incanalarsi verso il centro commerciale, dove al momento il barco per accedere all'area dei sette piani di parcheggio è unico. Traffico destinato ad estendersi fino a Fratte lungo gli assi di accesso dell'autostrada e le rampe di uscita ed ingresso della tangenziale, così come per chi proviene dall'area nord della zona di Baronissi. Già sono comparsi i primi cartelli in zona, affissi dai residenti, impressimità di portoni ed ingressi di negozi lungo via De Greci che invitano a lasciare liberi gli accessi. In tanti, quanti infatti, anche questa mattina, hanno parcheggiato l'auto su marciapiedi e lungo il ciglio della strada di via De Greci, seppur in divieto di sosta. Preoccupati per l'impatto ambientale che il centro commerciale Le Cotoniere potrà avere su Fratte, sono anche i componenti del Comitato Salute e Vita, che hanno già annunciato di monitorare il nuovo flusso di auto e il possibile inquinamento ambientale. Grazie. Grazie. Grazie.